Alla fine del matrimonio del delfino Bellino, anche Gustavo avverte un velo di tristezza. Anche lui si sente solo e decide di trovarsi una bella fidanzata. Presto fatto! Affascinante squalo giovanile, cerca affascinante squaletta per rapporto duraturo e intenso. Ora deve mettere una foto. E cosa ha di più efficace di un bel selfie? Si scatta una foto col telefonino e appena la vede fa un salto inorridito. Quello sono io! Se mi vede così non mi risponderà nessuno! Photoshop! Esperto com'è di Photoshop si ritocca qua e là. Molto più magro, alliscia qualche ruga sotto gli occhi e il mento. Si fa gli occhi azzurri. Yes! Questa mi sembra giusta. Tin, 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 tin! Un sacco di risposte ma questa... Sono un'affascinante squala. Mi piacerebbe conoscerti per un rapporto duraturo e intenso. Vogliamo incontrarci? Acclusa una foto di una bellissima squaletta magra, affusolata e con gli occhi azzurri. Elegantissima. Si avviano verso il fatidico e magico incontro. E' quello lì? Mmm, sarà quella là. E' quello lì, è quello lì! No, è quella là. E' quella lì, quello lì, quello lì, quello lì, quello lì, quello lì. Si passano vicino e... Non si riconoscono. Perché entrambi ben lontani dalle immagini che avevano mandato. Gustavo se ne va via sconsolato. Riuscirò mai a trovare la mia anima gemella? Grazie! 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 Grazie a tutti.